Ah! E' fermo lì! Spegni quel coso! Spegni la paurezza! Ce l'hai la medaglietta? E' perché? Che cosa ho vinto? L'abbiamo beccato! E' cosa? Non capisco. Beccato chi? E' lui, non c'è dubbio. Guarda. Si può sapere chi siete? Fangots, il cane rapinatore! Ma... L'incubo dei pallai! Il randaggio più ricercato in tutta la coltella! No, guardate, c'è un equivoco. Io non sono un cane! E poi io mi chiamo Alberto! Alberto, come no! Lo aggiungeremo alla lista dei tuoi nomi. Ne hai una bella collezione. Davvero? Io mi chiamo Alberto. Qui mi conoscono tutti. Chiedete in giro e vedete che... Beppe! Beppe! Ti fa chiamare Beppe? Certo, quel delinquente! Sempre in giro a far danni. Lo conosco bene io. Ok, Fangots. Si parte per il canile di massima sicurezza di Alga.